Musica 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 Un libro di accoglienza per le vitole scartate da tutti che ha realizzato e mantiene il fratello Vincenzo A lui provvede a tutto cibo, medicine, alloggi e tutto quanto può servire Queste persone, tutte donne, sono lo scarto degli scarti umani Almeno così sono considerate qui Ecco chi hanno visto il fratello Vincenzo e tutte corrono da lui Musica 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 Tutte queste donne, grazie a fratello Vincenzo, hanno evitato la lepidiazione o potete essere bruciate vivere Musica 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 Musica